di case buongiorno buongiorno dominando il lago di seo come vi avevo accennato come sempre buon lunedì a tutti inizio a parlare nonostante le persone alla spicciolata si stiano collegando in questo momento semplicemente perché questo video lo vedrete caricato qui sulla nostra pagina facebook sulla nostra pagina instagram e sul nostro canale youtube sempre aggiornato con le nostre iniziative qui siamo a fonteno splendida località collinare che domina la sponda del lago di seo la sponda bergamasca del lago di seo qua in fondo in fondo vedete c'è monte isola questo è tutto invece il lago che porta la fine in fondo dove c'è l'overe il paese che si intravede sotto è riva di solto con sopra solto collina qui siamo in un appartamento davvero bellissimo un trilocale molto ampio con anche un sottotetto e un giardino che adesso vi mostro guardate anche il terrazzo che ha di proprietà che è uno spettacolo perché è veramente domina il lago è larghissimo puoi mangiare veramente in tante persone e qua vi faccio vedere anche tutto quello che è il terrazzo gigantesco che c'è quindi è un terrazzo davvero ampio che domina che domina tutto il lago considerate che questo appartamento erano due nati come due appartamenti loro sulla carta comprando dal costruttore avevano reso un unico grande appartamento ecco allora visto che ci stiamo collegando un pochino di persone vi ricordo che questo appartamento che è quasi 70 metri quadri utili di appartamento più tutto questo terrazzo che avete intuito e visto costa 159 mila euro arredato come come sto per mostrarvi seguitemi facciamo il passaggio obbligato questa è la grande vetrata adesso entro un attimo qui dove c'è l'angolo cottura e vedete questa è la porta blindata quindi praticamente noi entriamo da qui e ci troviamo di fronte a un soggiorno con il camino considerate che comunque l'appartamento è dotato di caldaia indipendente a metano questo è l'angolo cottura molto carino caratteristico hanno dato più importanza ovviamente alla zona pranzo e poi vedrete la zona divano questo è un comò con il camino molto moderno questa enorme vetrata che dal tavolo mentre pranzi puoi goderti veramente una vista incredibile questo è il terrazzo e qui abbiamo la zona soggiorno molto ben divisa è innanzitutto qui c'è un piccolo bagno che ne vedrete che se ne saranno due questo è un primo bagno della zona giorno finestrato rivolto verso nord con la vasca con la vaschetta water bidet lavandino e mentre qui siamo ritorniamo nella zona soggiorno in questa vista incredibile per chi si sta collegando adesso esco un attimo dalla vetrata immaginatevi qui allestire un bel tavolo imbandito e godersi di questa vista incredibile che vi fa vedere fino alla valcamonica fino a monte campione fino all'overe fino a bisogni a tutte le località del lago ediseo rientriamo ecco qua ripeto soggiorno un soggiorno molto carino vi ricordo che la casa viene lasciata arredata così questa scala che vedete sale in un sottotetto un locale accessorio in più che vi mostro dopo da qui vedrete vedete bene la profondità dell'appartamento qui io non uso il grand'angolo a differenza di nostre fotografie proprio per darvi la percezione reale questa è un'altra vetrata guardate un'altra uscita sul balcone che vi fa vedere una vista davvero impagabile impagabile andando poi nella zona notte vedrete qui sulla destra dove vedete il mio dito eccola quella è la seconda porta d'ingresso perché vi ricordo che dovevano essere due appartamenti invece loro ne hanno unito e facendone uno questa è la prima camera da letto una camera matrimoniale bellissima e luminosissima guardate mi metto nell'angolo qua per farvi vedere quanto sia luminosa che pazzesca c'ha questa doppia vetrata di cui una porta sempre su quel terrazzo che vi ho mostrato prima e che si collega vedete quanto è largo e che si collega appunto al terrazzo principale quindi questa è la prima camera da letto una camera matrimoniale molto ampia col suo armadio comodo veramente molto molto luminosa proseguendo qui sulla destra abbiamo sempre il soggiorno se tutto aperto oggi c'è già una temperatura meravigliosa ma qui c'è sempre un po di venticello è perché siamo in una zona collinare davvero bella qua c'è il bagno del reparto notte diciamo sempre con il suo water bidet lavandino in questo caso invece che la masca c'è la doccia persone che questo è sempre un bagno finestrato e quindi ecco qua vi faccio vedere che oltre al cielo blu di oggi c'è la parabola satellitare che è presente nella palazzina da qui si va in questa cameretta è un'altra come se fosse un'altra camera matrimoniale diciamo che loro era allestita per i bambini adesso tengo un po basso per non far vedere le fotografie dei minori comunque questo è un una zona diciamo dove i bambini facevano i compiti una bellissima vetrata e questa porta sto basso sempre per le fotografie porta a un una cosa in più meravigliosa che ha questo appartamento adesso vado un attimo veloce non ubriacatevi semplicemente perché hanno uno sfogo oltre a quel terrazzo incredibile guardate che sfogo che hanno per le serate tra amici no ma è una roba incredibile quindi un barbecue con tutta questa questa zona per mangiare fuori o per mangiare all'ombra poi considerate che il sole qui c'è in questo momento ed estate quando è più alta ce n'è ancora di più guardate che che posto incredibile quindi una zona meravigliosa per mangiare con gli amici e poi in più questo verde unico che domina comunque la vallata ma guardate sto scendo dai gradini questo è tutto di proprietà e non sono in zone comuni o cose strane questo tutto il verde privato con addirittura questi ulivi all'interno del del giardinetto un giardinetto bello davvero tenuto bene con le sue scalette adesso ovviamente loro non vengono più però gli sto salendo apposta per farvi vedere anche dall'alto questa è una pianta di mele c'è ancora una mela marcia dell'anno scorso anche questa guardate gli ulivi quello è l'appartamento e questo è il dominare il lago posto incredibile davvero bellissimo vi ricordo che sono più di quasi 70 metri quadri di casa utili due bagni due camere un sottotetto che poi vi mostro un doppio terrazzo gigantesco questo giardino che vi sto facendo vedere a 159 mila euro arredata caldaia è lì dove vedete questa parte grigia e vi faccio rivedere questa parte dove si può cenare o pranzare con gli amici in tempi che speriamo arrivino velocemente ecco una cosa importante mi sono un attimo fatto un video per da solo semplicemente per ricordarvi che noi siamo aperti anche in questo momento in cui siamo purtroppo ritornati arancioni serve l'autodichiarazione che dovete tenere voi debitamente compilata in macchina e poi noi vi inviamo una mail di convocazione con il luogo la via e l'ora esatta dove ci troveremo quindi siete titolati a venire a vedere le nostre case sempre con distanziamento sempre con l'attenzione massima per noi per voi e per le vostre famiglie eccoci qua rientriamo nell'appartamento vi faccio vedere anche il sottotetto che è un accessorio abbastanza importante la scaletta che porta all'ingressino sul retro diciamo che è la cameretta dei bambini questa è la cameretta dei bambini che loro avevano due bambini cresciuti bambine qui c'era il bagno e noi ritorniamo verso la zona giorno vi ricordo sempre che tutto il video intero lo vedete sui nostri canali anche canale youtube vi ricordo di condividere il video attivare anche la campanella su youtube per poter essere i primi a vedere le iniziative a volte in anteprima che mettiamo guardate che vista pazzesca immaginatevi qua su questo terrazzo è incredibile ecco il tenore di questo appartamento con questa vista fa sì che questo appartamento possa essere anche un grande un grandissimo investimento per metterlo a reddito vi posso mettere in contatto con luigi il nostro collaboratore che tratta anche di affitti perché qui in un periodo normale ovviamente non di pandemia è richiestissimo anche dagli stranieri quindi potreste davvero prendere due piccioni con una fava e mettere a reddito anche un appartamento così importante così richiesto che vi ricordo costa solo 159 mila euro e per il tipo di appartamento col giardino con questi terrazzi giganteschi con questi grandi spazi negli appartamento è davvero poco io per rimanere nei 15 minuti corro un attimo su per farvi vedere anche il sottotetto che è sicuramente una cosa in più è pavimentata bene con il lucernario altri posti letto come vedete altri posti letto è grandissimo è lucernari dappertutto vedete il letto armadi su misura caloriferi quindi non stiamo parlando di cose così raffazzonate è un appartamento davvero ben tenuto allora contattatemi qui o via via whatsapp al 320 033 4332 oppure scrivete una mail a infochiocciolagicase.it eccoci qua fonteno fonteno ecco lì lì arriva di solto località incredibile soleggiata guardate che bel terrazzo sole per qualsiasi cosa io sono qui sono stefano grazie a tutti voi un caro saluto a presto da stefano e da tutto lo staff di case ma Grazie.